Bentornati ragazzi sul canale, il nome è LatiDiFutti, io sono DioVispo e questo è il video, il piccolo video sto a partire Il pack opening da 500.000 crediti, è un pack opening per augurarmi un buon anno E sulla pagina Facebook vedrete il contesto del buon anno, quindi ragazzi mettete mi piace a pagina Facebook, mettete mi piace a questo video E spero che vi sia di gradimento questo pack opening Però prima di iniziare, se volete acquistare i crediti VIPCoinsFIFA, troverete il link, il codice coupon dal Lati15 per avere il 4% di crediti in più Troverete tutto qui in descrizione Dunque ragazzi sono 10 pacchetti a 15k, taglierò al massimo per non farvi annoiare Faccio vedere cosa esce in questo primo pacchetto da 15.000 crediti e speriamo che almeno qualcosa nel primo pack possa uscire E vediamo, gira, saltiamo, Manzukic e William Not bad, not too bad Manzukic e William, viviamo questo hot club Anche questo Un if Cazzo Al secondo pacchetto, Diego Lopez if Ragazzi, Diego Lopez if Ma vai, ma vie, ma che cazzo proprio Incredibile ragazzi, incredibile Diego Lopez if Diego Lopez if Diego Lopez if ragazzi, cazzo E la puttana Scusate queste parole brutte Diego Lopez if Tu finisci nel nostro club Ultimo pack da 15.000 crediti Eh, questi pacchetti veramente Sono detto un po' così e così Un po' una merda diciamo Saltiamo e vediamo Non mi senti giù Però Male, malissimo anzi, male, malissimo Dai, ho aperto tantissimi pacchetti A vero il resto, qualcosa potrebbe uscire Dai Dai, 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 cazzo Alaba Portaci qualcosa Alaba, portaci qualcosa Cazzo, tantissimi pacchetti E tu ho aperto Non ho fatto un cazzo di niente Pardo, cazzo Non è chissà che Cerdinio Non è ottimamente buono Però Insomma, dai Insomma Vabbè, va bene, va bene Proviamo così Con un bello Facile Punto Un bello Facile Punto Con Gridsman Subacopperdita E vediamo Su Gridsman Porta Gridsman In zip Facile Punto Facile Punto Facile Punto Facile Punto Punto Facile Punto Facile 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 Vediamo Non scrittiamo Facile 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 Le spiene Le spiene Le spiene La cacata Di pacchetto Le spiene neanche buona, non vale tantissimo, vabbè, Felipe Luis, non è ottimo, però comunque qualcosa, è, è, vaffanculo, Felipe Luis non è il massimo, me ne di niente, qualcosa uspira da questo pancretto, io non so più niente, perché veramente, di nuovo, vaffanculo al biote, la seconda volta, l'ho trovato prima, ma vaffanculo, ma che palle, che palle, Luis gustato, wow, boh, ho qualche dubbio con questo pancretto, veramente, ragazzi, sarò io che sono veramente grossificato, sicuramente, 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 De Bruyne Boateng, De Bruyne Boateng, e, bah, insomma, boh, dai ragazzi, ultimi due pacchetti, dai, la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, non ce la facciamo, non ce la facciamo, che fai, ovviamente, a chi oggi ci conserviamo, spesso conserviamo, poi adesso scartiamo, e poi giochiamo con l'ultimo, si, ultimo pacchetto, le notifiche qui arrivano come se vi avesse molto, molto male dai portaci tu il super mega nico al giocatore cazzo maa ok palle vabbè ragazzi che dire pacco per acqui non riuscire a trattare un cazzo qua quasi un cazzo eh vabbè dunque ragazzi sono qui anche per augurare un buon anno passato un bel 2015 passato anche in compagnia nostra di noi malabili pub qui è tutto lo staff di noi malabili pub che vi ringrazio e vi auguro un buon 2015 ciao ragazzi e a l'anno